carissimi fratelli sorelle pace e bene buongiorno 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 a voi buongiorno 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 a noi buongiorno a noi buongiorno per tutto il giorno oggi celebriamo la domenica delle palme l'ingresso trionfante di gesù a l'ingresso diciamo trionfante di gesù a gerusalemme abbiamo meditato la passione secondo marco perché siamo nell'anno liturgico b che dire della passione tutti noi pensiamo che la passione è un evento triste perché gesù soffre e vedendo gesù che percorre la via del dolore e giustamente questo ci dà questo significato della sofferenza non che la passione è un evento triste e doloroso lo è ma al di là di questa sofferenza la passione è un evento gioioso perché culmina diciamo alla risurrezione questo è il cammino che ti porta la salvezza gesù percorre questa via del dolore questa via della passione per amore celebrare la passione di cristo significa celebrare l'amore grandissimo di dio per l'umanità perché gesù si è sacrificato si è consegnato per amore gesù stesso aveva dichiarato non c'è un amore più grande di quello dare la vita per i propri amici e lui si sacrifica per noi e perciò carissimi è importante di meditare al di là della domenica delle palme o del venerdì santo anche nel corso della vita nostra di meditare ogni tanto questa stazione perché perché ognuno di noi si ritrova in questo può essere pietro può essere giuda può essere ognuno si ritrova in questa passione la passione dimostra l'uomo e come l'uomo maltrata dio questa questa situazione ci invita a fare una una riflessione profonda per chiederci ma come noi dimostriamo il nostro amore verso gli altri di sicuro siamo disposti a morire per dio a sacrificarci per dio va bene ma non vorrei dire che sarebbe una bugia perché uno che è incapace di sacrificarsi per l'essere umano non può sacrificarsi per dio perché dio lo vediamo nel nostro fratello nella sorella viviamo questa passione nella nostra vita nella nostra famiglia nella nostra società dove ci siamo le difficoltà potrebbero essere come una passione che ci porterà alla risurrezione e perciò carissimi miei da soli non faremo mai vivere questa via della passione questa via del dolore ci vuole la forza dell'alto lo spirito santo dovremmo sempre invocarlo ogni giorno ogni giorno perché la vita nostra è una via del dolore carissimi chiediamo allo spirito di darci questo amore che dio ha dimostrato per noi che gesù ha dimostrato per noi affinché noi lo dimostrassimo anche ai nostri fratelli la fede senza le opere è morta uno che ama dio odia il prossimo e un mentitore un mentitore la san giovanni allora che questa passione sia per noi anche di dimostrare l'amore che abbiamo gli uni gli altri viviamo questa passione accanto a chi sta con noi quelli che chiedono di aiutare moriamo anche dentro di noi sacrifichiamoci per gli altri si una parola che fa paura sacrificarsi ma dedicare il suo tempo agli altri consigliare gli altri aiutare gli altri anche un modo di sacrificarsi anche di umiliarsi di abbassarsi di rinnegarsi che dio ci aiuti che lo spirito santo ti dia la forza vi auguro una buona e santa domenica e buona festa delle palme grazie